Sono circa 1200 i minori che ogni anno in Lombardia hanno bisogno di cure palliative. Per rispondere a un bisogno reale nascerà a Milano la Casa Sollievo Pediatrico, ultimo progetto all'interno del percorso di Vidas. L'associazione è fondata da Giovanna Cavazzoni che dal 1982 si occupa di malati terminali. Vidas assicura un'assistenza gratuita domiciliare in un ospice già esistente che è nella zona di San Siro di Milano e attualmente assiste gratuitamente più di 300 malati. La nuova struttura dedicata all'assistenza di bambini e adolescenti che soffrono di malattie inguaribili in fase avanzata sorgerà accanto all'ospice di Vidas in zona Bonola, su un terreno del comune di Milano incomodato gratuito per 45 anni. Al via in primavera i lavori dureranno due anni. L'edificio si svilupperà su sei piani per un totale di 6.400 metri quadrati. 15 milioni di euro è il costo della struttura che ospiterà anche il centro ricerca scientifica su patologie e terapie relative all'età pediatrica. La nuova Casa Sollievo avrà sei camere per l'adegenza ma permetterà ai piccoli pazienti di essere seguiti anche in the hospital con ambulatori, studi medici, palestra, piscina e spazi per lo svago. Non mancherà un terzo percorso con l'assistenza a domicilio. Sono azioni che sono indispensabili perché dobbiamo stare vicini alle persone e rendere la parte finale delle loro vite una parte piena di amore, piena di riconoscenza, piena di affetto, piena di vicinanza e nella dignità con la quale si accompagnano le persone che soffrono si misura il grado di civiltà di un paese.